Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove c'è un chilometro di coda per lavori tra Ponte del Est e la diramazione per Pisa in direzione Livorno. In A1, rallentamenti tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano, Sesto Fiorentino in direzione Roma. Fino all'8 dicembre, tratto chiuso per lavori al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno della FIPILI, per una frana avvenuta al chilometro 79 865 proprio della FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Statale 64 porrettana, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!